La Croce, un'assemblea ricca di argomenti, giovani, la Serie B, cosa ti ha colpito di più oggi? Mi ha colpito che ci sono molti più problemi di quelli che si possono pensare nel calcio e soprattutto tutte le serie minori hanno molti ma molti più problemi di quelli che si possono trovare in Serie A. Avevi percezione di quello che sta accadendo, di essere inferiori o oggi è stato un momento nel quale ti sei reso effettivamente conto di una situazione delicata? No, oggi mi sono reso conto veramente che la situazione è ancora più delicata di quello che avevo visto io perché comunque sia ho giocato sia in Serie C che in Serie B e ho toccato magari con mano qualche problema che ci poteva essere però da quello che ho sentito oggi dai compagni, dai vari compagni di questo sport veramente ci sono delle difficoltà che devono essere risolte assolutamente. Oggi si è notato anche un forte spirito di squadra tra i vertici e l'associazione, voi calciatori, tre colleghi. Quanto conterà questo spirito di squadra per il futuro della categoria? Conterà tanto anche perché per riuscire a fare le cose che abbiamo in mente, per riuscire a salvaguardare comunque sia questo mondo del calcio l'importante è essere uniti quindi è una cosa che conta molto. E questo spirito l'hai trovato oggi? Sì, l'ho trovato, ci sono stati parecchi argomenti di discussione, tutti validi e ognuno diceva la sua e comunque sia siamo riusciti ad arrivare a qualche piccolo obiettivo che ci siamo proposti.